Non è che ha messo le mani addosso? Dovete aspettare strada! Vieni, questo è detto! No, non lo faccio! Dovete aspettare strada! L'uaglione di Siriciano! Non ha credito nessuno, ora ve lo ripeto! Allora, divergo! Allora, divergo! Allora, me lo ripeto! Allora, me lo ripeto! Io non l'ho credito nessuno! No, no, no! Figli i telecami! Figli i telecami! Figli i telecami! La vogliamo finita! Sì! Fate prendere un testo a fuoco! Io li caccerò! Io li metto a fuoco! Lo faccio io pure io! Vai, vai, vai! Ti dovi un'attivizzazione! Che stai dicendo? Non ti metto per ora di andare... E voi quando ci dà mi sembrare un cuore che mi ha fatto tutti i video? Però vi dovete voi vergognare perché quello è sempre un minore non tutelato! E voi... ? Che stai dicendo? E voi dovete... Oh! Sì! Ciao! Ci stai dicendo! Grazie.